A Bari nasce un nuovo progetto grazie alla collaborazione tra il Dipartimento di Giurisprudenza e l'Associazione Avvocato di Strada, la prima clinica legale dell'Università di Bari che avrà una duplice funzione, fornire ai futuri avvocati la possibilità di fare esperienza sul campo e aiutare coloro che sono senza fissa dimora. Afferma il Rettore Antonio Auricchio, è l'opportunità per i nostri studenti di maturare percorsi esperienziali all'interno del corso di studio. L'esperienza che stiamo avviando ha anche una ricaduta sociale, poiché attraverso il progetto intendiamo offrire l'opportunità per gli ultimi, coloro che spesso sono portatori di bisogni insoddisfatti e inespressi. Questo progetto, che vede coinvolti 20 studenti e prevede uno sportello per offrire consulenza e assistenza legale gratuita ai senza fissa dimora, costituito da studenti e avvocati volontari, sarà aperto due volte a settimana. Il lunedì dalle 17.30 alle 19.30 presso la parrocchia Preziosissimo Sangue in via Putignani 233 e il giovedì sempre dalle 17.30 alle 19.30 in un camper parcheggiato nei pressi della stazione centrale. Questa clinica legale, spiega il direttore del Dipartimento di Giurisprudenza Roberto Voza, è utile a ribadire quella che è la missione dei giuristi, il diritto a una sua missione speciale, il diritto serve a tutti ma soprattutto ai più deboli. Per il professor Luigi Panarale, responsabile scientifico della clinica, questo progetto rappresenterebbe un modo innovativo di fare università.